E buongiorno a tutti quanti, buongiorno, buon lunedì, ben ritornati sul canale Twitch di DungeonDiceTV come ogni lunedì eccomi qua pronto per portarvi nel mondo delle novità ogni lunedì tranne lunedì scorso vuoi perché era pieno ponte, vuoi perché era piena look Comics & Games abbiamo fatto un attimino di pausa ma in compenso oggi abbiamo una svalangata di novità da recuperare un sacco di annunci anche oltreoceano anche perché alcune cosine addirittura non ve le avevo raccontate l'ultimo Next che ci fu perché fu il Next antecedente proprio a Luca Comics dove c'eravamo soffermati su tutte quante le novità presentate in quella galoppata di due ore e un quarto che abbiamo fatto in quell'occasione di Next intanto buongiorno a tutti quanti, buongiorno al Tommy di Zico, buongiorno carissimi ben ritrovati e grazie mille a Ciri1975 che suona il clacson da ben nove mesi che rinnova l'abbonamento utilizzando Prime e ricordo proprio a tutti quanti che se avete un account Amazon Prime e volete sostenere il canale e volete avere in cambio delle ricompense esclusive vi potete abbonare per farlo è molto semplice, vi basta digitare punto esclamativo Prime in chat per sapere come fare vi comparirà un video dove vi verrà spiegato per filo e per segno come collegare i vostri due account, quindi poter riscattare l'abbonamento qua e a quel punto poter anche riscattare ad esempio un mese di abbonamento VIP su DungeonDice.it abbonamento VIP che vi ricordo in questo periodo vi dà anche un 5€ aggiuntivi di sconto oltre al 10% fisso più tutte quante la sezione di scontistica esclusiva per i VIP soglie di spedizioni abbassate insomma oltre già tutto quello che vi viene dato in tutto gratis perché se avete Prime e pagate Prime gratuitamente avete anche questa possibilità insomma io ve lo ricordo e tra l'altro adesso c'è anche stata la novità di poter scegliere come il Corriere i Corrieri Amazon proprio anche direttamente da DungeonDice quindi nel caso sappiatelo buongiorno BoardGame101 grazie mille, grazie mille Fabio per aver rinnovato anche tu il tuo abbonamento grazie davvero e buongiorno anche a Pennywise grazie, buongiorno sembro ringiovanito, mi dice Electric ciao carissima ma io sono sempre giovane io sono sempre giovane e bello e quindi io dimostro molto meno dei miei 68 anni quindi sono felice così peccato non avervi conosciuto Luca mi avrebbe fatto tanto piacere ma anche tanto piccola volendo Pennywise è dispiaciuto un sacco anche a noi purtroppo non siamo riusciti ad incontrare tutti quanti ma ci saranno sicuramente altre occasioni ciao love vai fammi subito la domanda se vuoi love siamo qua anche per questo siamo live proprio perché possiate chiederci cose possiate confrontarvi con noi chiedere robe specifiche approfondimenti che se si può ben volentieri se ne parla come è ordinata la libreria dietro? dice Fabio sì perché sì ho fatto ma in realtà quella è cambiata poco cioè qualcosina è cambiato ma non tantissimo è cambiata tanto questa qua ed è cambiato tantissimo le Kallax là in fondo però non ho ancora finito ma sappiate che nel weekend ho tolto quasi tutti i giochi dalle librerie e li ho riordinati così perché sono pirla fondamentalmente buongiorno anche a Sasha buongiorno a tutti quanti ora vi recupero tutti perché non mi sembra giusto se no non salutare e non ringraziare chi era qua già da subito tra l'altro non grazie a Ziopoldo e a Parsifal per i follow fatti poco prima dell'avvio della live e quindi buongiorno Melks a Marco Dissa a Lenders a Nick Nitro qua si era in assinenza da novità Melks ce ne sono un sacco ma infatti io partirei partirei deciso li spolvero anche sì electric sì ho fatto anche quello più che spolverare i giochi di per sé ho spolverato ne ho approfittato ho spolverato in alto soprattutto le librerie e togliendo i giochi ho anche rispolverato tutti i ripiani cosa che effettivamente quella non si fa di andare a spolverare dietro i giochi e sotto i giochi anche perché teoricamente non è che si accumula polvere ma la polvere si infila ovunque quindi ho fatto anche quello noi in Mansard abbiamo il divano della vergogna i giochi stanno lì finché non trovo il tempo di riordinare tutte le librerie e trovare il posto delle novità di Lucca ma infatti io l'ho dovuto fare proprio dopo l'arrivo delle novità di Lucca perché non era più tanto il tavolo ma erano le Kallax della vergogna nel senso che c'è quella Kallax dove vedete sbucare della luce dalla in fondo quella lì è la Kallax che usiamo come sfondo nei nostri video di gameplay e quella per forza di cose deve essere vuota e il problema è che era piena imballata e il fatto è che riordinando e mettendoli con più logica adesso in realtà io ho ricavato 4 cubotte di Kallax che sono totalmente vuoti ma la quantità di giochi in casa è sempre la stessa prima avevo 30-40 giochi che non sapevo dove mettere riordinandoli con più logica sono riuscito a far stare tutto meglio ma andiamo avanti andiamo avanti perché che cos'è next? Next è un format che vi porta nel mondo delle news degli annunci legati al nostro mondo il mondo dei giochi da tavolo giochi di ruolo magari anche con qualche annuncio di solito un pochino più collaterale come andremo a vederne qualcuno anche oggi buongiorno Ramon benvenuto e buongiorno anche a Polenta devo fare un video su come riordinarli ma bisogna sfruttare ogni singolo spazio soprattutto se sia una mansarda quindi tetto inclinato c'è modo c'è modo di farlo buongiorno anche Alex ben arrivato dicevo ogni lunedì noi si va quindi a vedere quali novità sono annunciate sia sul mercato italiano che anche nel mercato estero titoli magari un po' più particolari cosa che magari vedremo o forse no arrivare anche sul nostro mercato logica dimensione scatola tipologia di gioco dilemma dimensione scatola perché corrisponde anche sovente all'editore e quindi vado io di solito vado così intanto l'av mi spara subito la domanda ed è partito un hype train grazie a Gaia che ha rinnovato l'abbonamento grazie mille Gaia grazie di cuore ed è partito l'hyp train quindi avrete la possibilità di sbloccare emoticon esclusive sbloccare altre piccole funzionalità qua su twitch e intanto far risaltare maggiormente il nostro canale e questa live a chiunque appaia su twitch in questo momento e si colleghi quindi se volete continuate ad abbonarvi continuate a lanciare bit che in questo modo ci aiutate intanto vediamo la domanda di live si sa qualcosa riguarda l'uscita di hit pedal to the metal il nuovo gioco di corso da days of wonder non si sa nulla dell'uscita italiana eh eh perché eh già eh allora il prezzo importante è parecchio alto io so che grazie Fabio grazie mille per il lancio di bit 41 per la precisione allora io so che per adesso non ci sono ancora case italiane che lo localizzeranno perché il costo è molto alto anche per un'eventuale localizzazione da parte dell'editore diciamo che l'editore dovrebbe poi mettere un prezzo di vendita al pubblico talmente alto che non vale la pena localizzarlo e quindi al momento non so pur avendo cercato informazioni precise grazie mille Ramon eh pur avendo cercato informazioni precise su hit pedal to the metal che eh mi piacerebbe un sacco anche a me venisse localizzato comunque mi piacerebbe un sacco poterlo provare senza dovermelo ordinare dalla Francia o da chissà dove eh in realtà però ahimè 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 grazie che tanto abbiamo completato il livello di di hype train per il momento non c'è ancora notizia di non c'è ancora notizia di una di una localizzazione e intanto grazie anche a Enmi per aver rinnovato l'abbonamento e grazie anche a Elizzico per aver rinnovato l'abbonamento grazie mille e love e vi se allora è un discorso complesso di cui io non sono sicuramente la persona più adatta per poterne parlare ma quando si parla di localizzazione non esiste solo il costo di cosa effettivamente devo quante parole devo tradurre dall'inglese al francese al tedesco all'italiano non è mai solo quello un costo di localizzazione perché comunque è una produzione che va fatta va fatta secondo cosa ti chiede di fare il partner straniero perché se il partner straniero in questo caso la Days of Wonder dice no però tu devi stamparne x mila copie le devi stampare in quella datafabbrica le devi stampare solo quando stamperà anche la Polonia sparo a caso tu devi stare a quell'accordo e magari quell'accordo ti obbliga a dover mettere dei costi perché avrai delle spese di trasporto di spedizione di attesa di che è che ti costringerà a quantità di copie che fisicamente devi fare che ti costringe per rientrare dei costi che hai a tenere un prezzo troppo alto non è mai solo la semplice traduzione delle parole perché altrimenti lo faccio fare a mio cugino e non costerebbe nulla localizzare i giochi non è mai solo quello quindi speriamo che qualche storia italiano lo importi anche in inglese speriamo assolutamente sì magari Dungeon Dice ci farà una sorpresa e lo farà grazie mille anche a Lidia per aver rinnovato l'abbonamento grazie mille e l'ho notato adesso Lidia scusami me l'ero perso quindi chissà magari su Dungeon Dice verrà verrà importato anche in inglese nel caso seguite la pagina di Dungeon Dice del nostro sito punto esclamativo sito in chat per raggiungerlo delle nuove uscite dei preordini magari comparirà in quel caso il giorno che comparirà io sarò tra quelli che lo preordinerà perché assolutamente sono molto curioso ma andiamo avanti andiamo avanti e io ho poco potere in questa cosa love se no mi farei importare da qualunque che mi piace ma ai noi staremo a vedere staremo a vedere comunque mai dire mai io ora ti dico so in questo caso specificissimo ma perché interessando molto anche a me mi sono informato anche per così un po' infilandomi un po' di qua e un po' di là però per adesso parrebbe che no ma chissà magari poi arriverà magari non tradotto in italiano ma come succede spesso magari lo potremmo prendere direttamente in inglese o come dici tu poi intanto il gioco in realtà è pressoché indipendente dalla lingua chiaro che averlo nella nostra lingua dà tutto quanto un altro gusto ma spostiamoci perché le annunci e le novità sono un sacco quindi andiamole a vedere assieme io ho approfittato non vi ho fatto il voice over sulla transizione ne ho approfittato per bere perché partiamo partiamo come sempre voglio partire un po' così da alcune news che ho trovato che sono un po' più collegate al nostro mondo ma magari anche leggermente estemporane prima di tuffarci a pie pari in tutte quante le novità che arriveranno in Italia e novità che sono state annunciate all'estero di cui ce n'è una che per il nome della persona che ha collaborato a fare questo gioco assieme alla casa editrice ho detto io lo devo avere lo devo avere perché c'è un nome sopra in questo caso è totalmente influencer marketing fatto bene sì perché il nome di quella persona sulla scatola mi ha fatto dire lo voglio ma ci arriveremo tra un pochino e poi magari sarò l'unico ad essere impazzito per aver letto quel nome magari a voi non farà né caldo né freddo ma stiamo a vedere ma prima partiamo da un'altra notizia prima notizia è il fatto che come sapete uscirà il film ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons di House of the Thieves che narrerà per l'appunto questa storia di questo party con questo protagonista questo bardo che andranno a ladrare in giro fare avventure film preventivato per inizio marzo 2023 che ahimè è slittato in realtà non è slittato di moltissimo è slittato di qualche settimana lo dovremmo vedere a fine marzo con un'uscita worldwide il 21 marzo se non mi sbaglio stessa data per tutto quanto il mondo perché è stato posticipato in realtà così di poco è una cosa abbastanza comune che capita quando vengono comunque annunciati i titoli vengono date delle date di massima poi capita che comunque queste date slittino capita tantissimo anche con tutti quanti gli annunci che ha fatto l'MCU per esempio durante il Disney il D23 di tutti quanti la prossima programmazione dell'MCU abbiamo già visto che per esempio Blade che io aspettavo un sacco in realtà a quanto pare hanno cambiato il regista ha mollato il progetto insomma stanno riscrivendo la sceneggiatura anche quello slitterà di un casino in questo caso in realtà questo slittamento è dovuto soltanto al fatto che abbiano anticipato per non so bene che motivo il sesto film della saga di Scream grazie mille intanto per tutti coloro che hanno contribuito al Lifetrain che è stato un successo grazie davvero dicevo l'idea di appunto spostarlo è stato per un anticipo di Scream 6 che è andato a coprire praticamente delle date vicine a quella che doveva essere l'uscita di Dungeons & Dragons che verrà quindi slittato più avanti ma al di là di questa notizia il fatto che se proprio arrivate lì a dire no mio dio io lo volevo vedere subito mi piace un sacco Polenta ne possiamo poi parlare magari in altra sede ma non mi è piaciuto il finale di She-Hulk perché per quanto sia quello che fa anche She-Hulk nei fumetti ok e lo sappiamo non mi è piaciuto perché non è stato un finale in realtà però non è questa la sede per parlarne comunque grazie della domanda dicevo se però proprio non vedevate l'ora di conoscere le gesta di questo party di questo bardo questa guerriera questi stregoni che andranno a vivere in questo universo che sarà presentato per l'appunto anche sul grande schermo trasponendo quella che è proprio un'avventura di una sessione di gioco di ruolo anche sul grande schermo sappiate che arriverà poco prima in realtà il mesetto prima dovrebbe uscire per ora solo in America è stato annunciato ma non mi stupirei di vederlo in realtà anche localizzato nel nostro rano idioma un comic un fumetto che racconterà le gesta degli stessi personaggi ma in una forma di prequel rispetto a quella che sarà la storia andando a raccontarci una loro precedente avventura all'interno di un villaggio in cui rimangono intrappolati da un tiranno molto cattivo che sta tiranneggiando questo villaggio e loro si offriranno per liberare praticamente i villeggianti insomma i paesani di questo di questo piccolo villaggio andando quindi a creare così i loro primi legami che poi conosceremo vedremo approfonditi sicuramente nel primo film di questa serie perché mi immagino che sarà una serie fondamentalmente si sta cercando di creare ogni casa di anche la DC adesso nuovamente piuttosto che appunto si sta cercando di creare questi franchise che possano creare questi universi lunghissimi come ha fatto la Marvel per vent'anni secondo me vogliono provare a fare qualcosa Dungeons & Dragons based anche in questo caso e comunque notizia carina che ho trovato che mi andava di condividere con voi ma passando invece più al nostro mondo legato al mondo dei giochi da tavolo ecco sappiate che parliamo dei coloni di Catan perché si terrà dal 18 al aspettate che vi leggo la data giusta dal 18 al 20 dovrebbe essere perché venerdì sabato e domenica quindi il prossimo weekend si terrà la finale mondiale dei coloni di Catan del campionato mondiale dei coloni di Catan si svolgerà a Malta quest'anno quindi vicino a noi su un'isoletta nel mezzo del mar Mediterraneo proprio come è un'isoletta quella di Catan e tra l'altro visto che a causa della pandemia non si è fatto quello del 2020 e neanche quello del 2021 ci sarà l'edizione con più partecipanti perché sono tutti quanti i finalisti quelli che si erano qualificati nel 2019 per poter partecipare nel 2020 quando non si è tenuto quelli che anche si sono qualificati negli anni successivi quindi ci saranno 80 partecipanti e mi ha fatto molto ridere che il premio dalla descrizione del comunicato stampa è il fatto oltre a vincere uno stupendo trofeo si avrà anche il si vincerà anche il diritto a vantarsi e questo è proprio da statement del comunicato stampa mi ha fatto ammazzare da ridere perché avrai il diritto a vantarti di essere il miglior costruttore di strade il miglior commerciante di mattoni e il miglior bandit doger quel che è riuscito a tenere meglio sotto controllo il bandito su tutto quanto il globo tra l'altro ci sarà il il campione in carica che è tal che sta l'imenez che arriva dal messico che sarà nuovamente uno degli 80 partecipanti che andrà quindi a cercare di difendere il proprio titolo grazie mille the dege grazie davvero di cuore per il follow no per il rinnovo dell'abbonamento scusatemi ero ero distratto ero distratto e quindi molto curioso di questa cosa grazie mille che i di grazie mille i bamboni di katan dice marco dissa esatto per questo diritto a vantarsi esatto potrebbe venire incoronato il grande bambone mi piace un sacco questo scatto dicevo uno distrutto perché non mi avranno probabilmente accettato uno scambio oppure sarà uscito il 7 quando era pronto a fondare 3-4 città e invece ha dovuto buttare via un sacco di carte mi piace un sacco questo scatto lo trovo non mi sembra costruito non mi sembra costruito perché questa qua tra l'altro è una foto della finale di una vecchia finale quella che si è tenuta a Colonia in Germania e secondo me è proprio reale ed è figo e legata a questa notizia altra notizia un pochino particolare perché l'autore dei coloni di Catan Klaus Toibner assieme proprio alla Catan Corporation che ha a capo suo figlio hanno fatto una roba nuova sempre dell'universo di Catan ovvero questo il romanzo sarà una trilogia di romanzi ambientati sull'isola di Catan scritti proprio da Klaus Toibner ovvero l'autore del gioco che passa dall'essere solo game designer a scrivere direttamente romanzi quindi non un passaggio magari sul libro game come ne abbiamo visti anche il nostro Christian per esempio che è sia game designer di giochi da tavolo ma anche di libri gioco e fumetti gioco o anche il nostro Manuele Giuliano vincitore di corti in gioco che vede pubblicato sulla raccolta Creature il racconto della sua fantastica picciona viaggiatrice Ami ma che già è anche come sappiamo ancora non pubblicato ma anche lui partecipante del Twitch Pitch della prima edizione che col suo Max il Mazzo è riuscito comunque a firmare un contratto di pubblicazione quindi lo vedremo qui invece proprio su un altro magari proprio un altro un altro genere comunque il romanzo sarà una trilogia di romanzi tutti quanti ambientati sull'isola di Catan questo indicare comunque quanto Catan per quanto ad oggi venga detto che sia un gioco superato vecchio e tutto quel che si vuole ha avuto comunque sicuramente un impatto non da poco su tutta quella che è la cultura ludica odierna tanto da riuscire anche a sforare e entrare direttamente in un altro media e portare l'universo del mondo del gioco da tavolo preso come ambientazione all'interno di un romanzo quindi non un travaso non da un film da una serie da un libro di grande successo un adattamento a mo' di gioco da tavolo come ne abbiamo visti miliardi tutti i momenti dai vari Dune ai vari Harry Potter tutti quanti i giochi della saga di Star Wars questa volta processo inverso dal gioco da tavolo si passa a fare un romanzo altra notizia che mi è veramente piaciuta e ora signore e signori tenetevi forte ai bracciuoli delle sedie perché stiamo per arrivare a una notizia di cui non si sa ancora niente magari non vuol dire niente magari ci stanno solo perculando tutti quanti ma se voi come me avete come amico su Facebook un certo autore nostrano molto famoso molto rinomato molto apprezzato soprattutto da chi va a cercare esperienze di gioco più complesse più più diciamo sfidanti strategicamente in un ambito maggiormente Eurogame soprattutto se iniziano quei titoli con la T buongiorno Raffaella avete già capito di chi sto parlando ecco che avrete visto che ha pubblicato un paio di foto a seguito dell'SNHPL che hanno fatto sobbalzare molte persone sulla sedia e la prima di queste foto è questa dove abbiamo a destra il nostro Daniele Tascini bravissimo Alex ovviamente si stava parlando di lui abbracciato altre due personalità del mondo ludico che magari non vi dicono nulla perché non siamo così abituati a conoscere le facce degli game designer ma dovete sapere che partendo da sinistra abbiamo il signor Vital Lacerda e al centro abbiamo David Turksti che game designer famosissimi appunto Lacerda una serie di titoli transgalassisti transgalactica non capisco transgalactica cosa intendi Alex mi manca a meno che tu sappia cose che io non so dicevamo appunto abbiamo Vital Lacerda famosissimo per titoli come On Mars Vinyos Kanban CO2 al centro David Turksti famosissimo per aver creato tantissime modalità solitario tantissime modalità con automa di tantissimi giochi german praticamente penso che l'85% dei giochi german che hanno una modalità in solitario gestita da automi l'ha fatta lui hanno pubblicato questa foto e come didascalia della foto Tascini ha messo tipo work in progress what's going on una roba del genere e che dici boh what's going on ditecelo voi ma non è l'unica foto perché in un'altra foto ricompare ciao dance floor e ciao anche il dungeon store di bologna in un'altra foto ecco che questa volta allo stand della queen games Tascini pubblica una foto con il pelatone stefan feld uno dei miei game designer preferiti che ha fatto capolavori per quanto mi riguarda e anche qua mette stessa didascalia work in progress what you are working at che cosa stiamo facendo cosa stiamo lavorando oltre al fatto che mi fa riderissimo che c'è feld tutto ingobbito per stare vicino a Daniele che Daniele non è un nano anzi sarà alto come me credo quindi non siamo altissimi ma non siamo proprio dei nanetti da giardino ma feld è talmente alto che pur avendo il braccio alzato Tascini per fare palesemente questa foto fa uno scatto dall'alto ma feld si deve abbassare comunque perché altrimenti nella foto non ci sta e mi fa ammazzare da ridere questa cosa la trovo super mega divertente il super mega divertente è che tutti e due flexano comunque il gioco con cui sono usciti a Essen da un lato Marrakech l'altro l'altro con la maglietta di Teletum la novità che ha presentato è il multiverso dei game designer esatto anche qui ci dobbiamo aspettare qualcosa tutti assieme chi lo sa hanno anche pubblicato poi un'altra foto dove c'è ancora Feld, Turzi, Tascini e una quarta persona che non ho idea di chi sia che penso sia un editore ma non conosco ho provato ad indagare ma non sono riuscito a risalire a chi potesse essere staranno preparando qualcosa tutti assieme una mega bomba di gioco boh poi magari una mega ciofeca chi lo sa non si sa niente o magari ha fatto le foto con i suoi amici perché ah ciao ah che bello rincontrarci postiamo le foto però boh cioè mi sembra un po' per come ha messo giusto i didascalie mi sembra un po' tanto mi sembra un po' tanto cioè boh non lo so da dire ah guardate che stiamo lavorando qualcosa assieme o magari ci ha preso in giro esatto Alex magari ci ha preso per il culo ci ha fatto le foto con i suoi amici ah vi vedo due volte l'anno alle fiere vi vedo Norinberg vi vedo a Essen facciamoci sta foto assieme e poi le pubblico e boh e magari la cosa finisce lì però chiaro che vedere comunque queste collaborazioni con il game designer fa sempre piacere potrebbero uscire fuori delle cose interessanti e bello comunque vedere che comunque game designer super affermati come Feld come Tascini come la Serda ho fatto la supercazzo esatto con Antani con lo scappellamento a destra e hanno cioè è particolare perché da un lato se una collaborazione tra autori magari emergenti è più comune vederla perché magari sai ci si mette assieme ci si scambia idee ci si scambia magari esperienze diverse e assieme si riesce a creare qualcosa e si ha anche magari più facilità nel portare avanti certi tipi di discorsi cioè mi viene da credere che comunque se hai già un certo tipo di esperienza anche dei certi marchi di fabbrica ok che si hanno nei giochi perché se da un lato tu ti dici vabbè lui farà la modalità solitario ed è ok perché è quello che fa lui e non è una cosa da pannaggio degli altri sì magari ci saranno dei dadi perché gli ultimi giochi comunque di Tascini sfruttano i dadi in modo particolare così come è anche restata poi un po' la il punto di tipicità di Feld nei suoi primi giochi che utilizzavano i dadi non in quanto dadi ma in quanto qualcos'altro ecco la e poi la serda che di solito fa giù delle robe ipercariche non lo so da un lato c'ho una paura tremenda perché potrebbe veramente uscire giù un mischione di roba un mappazzone non da poco anche già mi vedo la lotta a chi va come primo nome sulla scatola anche quello anche quello poi si potrebbe risolvere per un democratico mettiamoli in ordine alfabetico proposto ovviamente da Feld perché è il primo in ordine alfabetico va a sapere un titolo con i dadi con la T molte regole e modalità solitario eh ma per forza però appunto poi da un lato ti viene anche paura che sia che sia un bazzone complexity rating su Borgangic it's over 9000 e oltre i 9000 esatto potrebbero anche farsi una foto con uve così che poi non c'entra nulla magari in questo fantomatico progetto di cui stiamo sognando e magari non esisterà mai però ve lo avrebbe fatto un sacco ridere e uno a caso dietro no così che passa in posa ma che non c'entra assolutamente nulla no? come sta facendo la cacca dei pipistrelli ricordiamolo dei pipistrelli di Ativa comunque questa era un po' la stanta roba che boh ha lasciato lì ma poi vai a leggere i commenti ok nessuno di loro ha scritto niente cioè ha scritto solo commenti di fan di gente che si strappa i capelli ma boh chi lo sa chi lo sa comunque signori e signori passiamo a parlare di un po' di giochi in arrivo sugli scaffali dei negozi italiani che tra prestissimo tra prestissimo non si dice tra pochissimo oppure prestissimo potrete anche voi mettere nelle vostre librerie partiamo parlando di Foxy perché dopo il sold out a S ne Lucca sta arrivando è arrivato dal 21 dal 21 di novembre lo troverete in tutti quanti i negozi è uscito da poco un unboxing di questo gioco se lo volete andare a vedere in quel di Facebook se non siete stati per l'appunto a Lucca o S e non avete avuto occasione di provarlo e i Foxy che cos'è oltre ad essere un fantastico gioco di David Spada illustrato magnificamente da Stefano Tartarotti un gioco dove noi come le volpi dovremmo avere occhio attento concentrazione scegliere quando agire nel modo migliore possibile e avere anche una buona memoria bevo scusate non sto tirando il fiato da non so quanto datemi un secondo che bello dicevamo Foxy che lo potete proordinare tranquillamente su Dungeon Dice anzi dovrebbe essere ci qua vediamo un po' eccolo date un'occhiata Foxy date un'occhiata Foxy altissima purissima mamma mia setissima super setissima gola secchissima anche dicevamo Foxy di cui vi ho messo due immagini perché ho sbagliato probabilmente qua avete anche il box molto carino all'interno della scatola ci saranno tante carte tante carte con sopra tanti animali che arrivano da quattro habitat diversi il mare la foresta la savana e la fattoria su ogni carta ci possono essere uno due o tre animali alcuni animali ciao Manu ciao ben arrivata nessun problema stai tranquilla benvenuta qua con noi su ogni carta potranno avere però appunto uno due o tre animali nella savana ci saranno sempre giraffe e zebra sotto l'acqua ci saranno sempre i delfini e i polipi in fattoria le galline e i maiali e nella foresta i conigli e gli orsi così li ho detti tutti e in ognuno di questi ambienti può comunque sempre comparire il gatto che assalta sempre fuori noi cosa dobbiamo fare prepariamo un mazzetto con 20 carte 19 carte paesaggio e una che è la nostra Foxy favolosa che vediamo dove è la nostra Foxy uffa non l'ho messa l'immagine della Foxy sono un badago c'è la Foxy tutta carina che salta fuori col nasino che ti fa così che ti guarda col naso tutta bella e non ho neanche più Foxy qua perché avendo messo a posto adesso Foxy è là e devo arrampicarmi per prenderlo è un casino vabbè sappiate che esiste questa bellissima immagine di Foxy ma la potete trovare tranquillamente anche sul sito di GetOn Games per esempio dicevo quando compariranno appunto girando carte noi dovremo andare a segnare sul nostro blocchettino quanti animali di quel tipo abbiamo visto fino a quel momento sommandoli tutti quindi quando ci arriverà la carta con il gatto e l'orso ma se io avevo già visto in precedenza altri tre gatti altri due orsi dovrò scrivere in totale 4 e 3 7 sulla mia casellina se scrivo di meno bene lo stesso se sballo vado troppo in alto zero punti una sola volta nella partita potremmo addirittura circondare uno dei numeri crediamo sia proprio giusto 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 e in quel caso solo se è giusto 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 quindi né superiore né inferiore possiamo raddoppiare quel numero visto un sacco di post entusiasti di questo gioco io ti dico un gioco veramente spaziale secondo me perché lo spieghi in 5 secondi lo giochi in 5 minuti eppure non riesci a smettere di giocare e noi abbiamo fatto addirittura una partita cross mondiale nel senso che è qua a trovarci un nostro carissimo amico che è Viva Las Vegas Dancefloor credo che tu sia un po' in ritardo sulla chat perché l'ho appena spiegato come funziona diceva è venuto a trovarci un nostro caro amico che vive in Las Vegas con la sua compagna che è coreana e abbiamo giocato quindi da Stati Uniti Italia e Corea uniti da una una da 25 partite a Foxy eccezionale è piaciuto veramente un sacco a tutti quanti e andiamo avanti però perché c'è stato se voi vi dicevo andate sul sito di GetOnGames se vi vedete l'immaginina di Foxy se voi andate a vedere tra le localizzazioni future da parte di GetOnGames è comparsa una nuova scheda che fino a un paio di settimane fa non c'era ed è questo Mortum Medieval Detective il gioco penso di essere il primo annuncio relativamente a questa localizzazione quindi spero di non starvi dando informazioni che non si potevano si potevano dire allora è morto mi spiega tantissimo Sasha già lo conosceva un gioco investigativo all'interno della scatola ci saranno tre casi tre casi che sono comunque rigiocabili questo perché a seconda di come giocheremo quali tipologie di cose sceglieremo di vedere raggiungeremo determinati finali di questa storia ma che non è non è detto che sia l'unico finale che c'è e non è detto che siamo riusciti a capire tutto perché noi ci troviamo in questo medioevo con magie varie in cui appunto andremo a cercare di risolvere dei misteri se tapperemo la partita ci saranno varie carte che noi potremo andare a vedere ad indagare a leggere magari alcune solo dopo aver superato determinati enigmi determinate prove e particolarità è che ogni giocatore avrà un gruppo di personaggi ogni personaggio avrà le sue abilità e anche il gruppo di personaggi con cui noi scegliamo di affrontare la storia ci darà accesso o no a determinate parti di quella storia perché ogni personaggio come ad esempio in questo caso l'assassino avrà determinate tipologie di abilità fondamentalmente con le quali potrà andare ad interagire solo con alcune parti della storia ci sono tre casi come dicevo di difficoltà crescente ma comunque il caso una volta finito non vi permette proprio la struttura del gioco di aver visto tutto ok non è alla Sherlock Holmes dove dico vabbè ma io se voglio mi leggo tutte quante le piste prima di andare a dare la soluzione no perché passato un certo numero di round dopo aver visto un certo numero di carte anche se noi ancora non sappiamo tutto saremo obbligati a provare a dare una soluzione che valuteremo poi in base a quello che ci dirà come siamo andati però magari non abbiamo scoperto tutto e quindi magari avremo voglia di rigiocarla proprio per andare a scoprire quel tutto che ci è mancato nella prima nella prima run tipo non è rigiocabile sì non è rigiocabile all'infinito nel senso che prima o poi tutto l'avrai visto ma diciamo che non esaurisci la singola run la singola avventura in un'unica run ecco un po' più alla come ma molto tra virgolette perché poi non è la stessa roba lì non era un investigativo un po' tipo alla coso o quello che torna indietro nel tempo time time stories time stories era quello che ora hanno fatto le scatole azzurre prima c'erano quelle bianche time stories penso che il primo era eri nell'asylum poi c'era quella con gli zombie poi c'era quella fantasy mi sembra che sia time stories scusatevi diciamo appunto che anche lì la storia è quella però la devi rigiocare più volte prima di arrivare alla fine molto tra virgolette dico sì sì time stories grazie mille Fabio ho avuto un dubbio ne ho giocate sei o sette però non adesso avevo il vuoto sul titolo mi scusate che mi soffio il naso sì sì perché voi mi volete bene il raffreddore in realtà sarebbe passato però devo ancora soffiarmi spesso il nasino e questo qua però appunto come vedete una visione di insieme un po' del gioco dove ci saranno anche proprio carte che andranno a comporre parti della mappa ci daranno accesso quindi a determinate zone piuttosto che noi non è detto che noi riusciamo ad esplorarla tutta nel corso di una partita e quindi dovremo rigiocarla magari anche cambiando i personaggi che avevamo scelto per poter andare ad avere accesso quindi a tutte quante le zone e effettivamente riuscire a risolvere nella sua totalità il caso che a una certa ci obbliga a finire la nostra partita e quindi siamo obbligati poi a farne un'altra delle tre scatole già incluse nella scatola per adesso data l'uscita di questo ancora non si sa boh e quindi io vi ho detto che arriverà ma non si sa ancora quando e poi mi sono perso giocare a snap ah il nuovo gioco della marvel non l'ho ancora installato perché ho paura che possa diventare una droga però sento molti che lo stanno giocando e ci sono finiti dentro a pie pari ciao anche a Obakemono ciao andiamo avanti perché sempre la casa Gator Games annuncio di questa mattina ma non vuol dire niente ok la data di uscita rimane a rimane quella di fine di fine gennaio ma ma le copie di Shogun finalmente dovrebbero essere in nave e star viaggiando verso di noi quindi ci siamo quasi quindi l'attesa è quasi finita ok se non lo sapete è stato un gioco di post-scrito un placenza games che ha localizzato per l'appunto Gate on Games per l'Italia così come già anche per esempio per i 21 giochi minuti di teo la casa editrice è sempre quella lì gioco di forgiatura catane anche questo qua un german con un piazzamento lavoratorio un gestione risorse molto impegnativo molto pieno di cose era andato su kickstarter un paio di anni fa adesso arriverà finalmente anche l'edizione retail gioco che pare essere molto molto interessante con una componentistica da urlo perché ci sono tutte le miniaturine le statuettine tutte quante fatte da Alan D'Amico eccezionali quindi molto molto bello vedersi veramente veramente eccezionale e quindi dovremmo farcela dovremmo farcela stava per arrivare io non vedo l'ora di poterlo provare perché lo giocai all'epoca su DTS quando ci fu il lancio del kickstarter ma voglio averlo davanti voglio averlo davanti perché promette molto molto bene però arrivi prima il kickstarter che non è ancora arrivato ma sì sicuramente così dovrebbe essere non è che è in nave ce l'avete venerdì eh raga vuol dire è in nave vuol dire magari un mese o due e arriva ok quindi prendiamo la cosa proprio però visto che è una newsettina che mi è arrivata stamattina alle 11 ho detto vai che gliela vai che gliela lancio vai che gliela lancio e andiamo avanti perché Aluc è stato presentato MyShelfie in anteprima da parte di Cranio Creations ma l'uscita reale del gioco sarà tra qualche settimana verso la verso la fine del mese e MyShelfie che cos'è in una barcarea in pratica eh no Mr. Exiani è che ci va tempo a partire dalla Cina in nave e arrivare qua in Italia in container che poi vanno sbancalati che poi vanno passati in dogana controllati eccetera eccetera comunque al di là di ciò al di là di ciò MyShelfie che è stato presentato come vi dicevo a Lucca quindi qualcuno di voi già ce l'ha come Alex se siete stati a Lucca e l'avete preso in anteprima o anche in alcuni negozi che lo hanno che lo hanno presentato in anteprima nuovo gioco di Phil Walker Harding autore già noto molto famoso che ha fatto un sacco di giochi tutti quanti sempre un po' pazzellosi mi ricordo per esempio Baron Park che era suo che era un po' pazelloso ma anche la casa di Pan di Zenzero autore molto bravo che ha sempre fatto degli ottimi titoli di un peso medio diciamo da Kenner Spiel ok quindi di quel family plus diciamo si rientra sempre lì e il gioco come state dicendo anche voi in chat è molto molto carino perché ci chiederà di andare a a riordinare gli oggetti che ci sono arrivati negli scatoloni o posto trasloco o posto mille acquisti sui nostri store online di fiducia e andiamo ciao Michele buongiorno next anche a te e dovremmo andarli a prendere quindi dal tappeto del nostro soggiorno dove li abbiamo riversati tutti quanti e Alberto tu lo hai fatto recentemente di riordinare tutti i giochi sì assolutamente sì e dato puoi andarli a riordinare nelle nostre nelle nostre librerie che saranno questi schermini verticali proprio come quelli del forza 4 per capirci quindi andremo a metterli così perché noi faremo punti per quanti più dello stesso colore riusciamo a mettere adiacenti più saranno grandi gruppi di colore adiacenti maggiori saranno i punti che faremo e avremo varie tipologie guarda ve la ingrandisco un attimino perché mi è rimasta un po' piccina avremo appunto libri gatti giochi da tavolo che tra l'altro anche gioco nel gioco riconoscere quali sono i giochi da tavolo su cui non hanno messo i nomi ma si riconosce quali giochi sono ok piante trofei e foto e noi dovremmo quindi cercare di metterle il più vicino il possibile per fare quindi i punti che ci darà avere gruppi grandi di tessere dello stesso colore ma non solo non solo perché ci saranno ecco non mi ero reso conto ci sono anche giochi da tavolo veri sì sì ci sono è inside the joke riuscire a riconoscerli tutti sono nove in totale noi li abbiamo noi li abbiamo riconosciuti tutti però potete riconoscerli anche voi e in più faremo anche punti con degli obiettivi comuni ne vengono rivelati due chi prima li farà prima otterrà i punti che gli verranno dati e inoltre faremo anche punti con un obiettivo privato se siamo riusciti a mettere determinati colori determinati oggetti in determinate posizioni se va a san dire che se non ha plancia del forza 4 tutto ciò che metto andrà sempre verso il basso perché la gravità tira raggiù non potrò decidere ah questo lo metto nella quarta casella da in alto se sotto non c'è ancora niente e piccolissimo fun fact questo gioco ha inizio a più che un anno fa quando si parlava che doveva uscire e ancora non c'era un titolo definitivo doveva chiamarsi Kallax poi l'hanno cambiato il nome l'hanno chiamato My Shelfie però è palesemente una Kallax 5x5 quella che noi dobbiamo andare ad aprire infatti non sembra banalissimo facciamo la versione gigante con le Kallax no allora banalissimo no perché devi riuscire a incastrare comunque tante tipologie di obiettivi diversi e non sarà facilissimo anche perché poi ci sarà l'interazione data dalla presa delle tessere dal tabellone centrale dove avrai dei vincoli per poterle prendere non potrai prendere ciò che ti pare a te quando ti pare a te soprattutto ciò che tolgo io lo sto togliendo anche a te e quindi ti vado a limitare anche le scelte ma allo stesso tempo liberarti determinate tessere che quindi tu puoi prendere insomma bisogna sempre guardarsi molto bene attorno e mi ricordo un po' il mi ricordo un po' sagrada fondamentalmente perché anche qua avremo questo schema dove avremo determinate posizioni da cercare di rispettare esatto tipo calico sagrado azul esatto certi obiettivi sono dell'impossibile vero ce ne sono alcuni che ti incasini un sacco si a me appunto a me di questi qualche nomini tu electric quello che mi ha ricordato un po' di più è sagrada in realtà però funziona bene bello noi già ce l'abbiamo l'abbiamo già giocato e perché anche noi l'abbiamo preso lucca e molto molto piacevole molto simpatico prestissimo lo potrete preordinare anche voi anzi lo potete già preordinare prestissimo arriverà anche a voi e andiamo avanti ciao ciao ramon buon rientro a casa grazie mille per essere stato qua con noi io devo risoffiarmi il naso non so perché quando vengo qua mi soffio il naso magari non soffio il naso tutto il giorno vengo in live e soffio il naso 35.000 volte che due smaronas dicevamo che durante lucca la ms edizioni ha annunciato giorno per giorno durante lucca molte novità del loro catalogo del prossimo anno tra cui kubosaurus che è un po' un sequel non è una ritematizzazione ma è un po' un sequel di kubiards esatto bravissimo marco raffreddore da live probabile di eyesight meeple non lo so se c'è qualcosa no ma sarà boh non lo so devo spolverare meglio probabilmente anche la scrivania che è disordinatissima probabilmente è quello tutto il resto della mansarda l'ho pulito questi giorni la scrivania no comunque grazie marco grazie benvenuto a bordo grazie mille per essere qua questo è dungeon dice tv tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 13 vi teniamo compagnia parliamo ho letto culosauros no per fortuna no però potrebbe essere bellissimo anche come terzo titolo di questa saga dicevo hai detto marco mentre dicevo marco niente si parla di giochi da tavolo principalmente ma anche di un sacco di altre di altre cose di cultura pop e nerd a 360 gradi grazie mille a Mauri anche per il rinnovo dell'abbonamento grazie mille no non è un rinnovo è un abbonamento nuovissimo grazie mille Mauri quindi visto il tuo primo abbonamento al nostro canale ti ricordo che puoi punto iscrivativo ricompense reclamare anche un mese di abbonamento VIP su dungeon dice grazie mille per il tuo supporto dicevamo cubosauros cubosauros è un appunto sequel diciamo così di cubers in quanto l'ambientazione è la stessa lì c'erano gli uccellini cubici qua ci sono i dinosauri cubici ma l'idea di fondo è un pochino la stessa nel senso un collezione set nel quale tante tipologie diverse di dinosauri che ci daranno punti in modi diversi per esempio qua abbiamo gli pterodattili che ci danno sempre punti negativi non importa quanti ne abbiamo ci sono i triceratopi che se ne abbiamo solo uno meno tre se ne abbiamo due meno un punto se ne abbiamo tre tre punti se ne abbiamo quattro sette punti addirittura invece i t-rex meno ne abbiamo più punti ci danno insomma e grazie anche a dancon miguel one hp benvenuto benvenuto benvenito a chi nostro streaming qui su twitch benvenuto miguel grazie mille tipo origami sì esatto l'idea che ogni tipologia di dinosauro darà punti in modo diverso secondo della quantità che ne avremo ma noi come ne prendiamo queste carte ognuno di noi parte già con quattro dinosauri pescati a caso dopodichè pesco una carta se la voglio me la tengo e la aggiungo ai miei set se non la voglio la passerò al giocatore dopo di me ma assieme gli devo aggiungere una carta di quelle che io ho davanti a me e importante devono essere le carte che passo la carta che scelgo di quelle davanti a me diversa da tutte le carte che già sono in quel momento nella mia mano perché le passerò un altro che sceglierà le tengo entrambe oppure no mi fanno schifo e allora ne aggiungo ancora un'altra diversa da tutte quelle che ho in mano e la passo e quindi magari le carte ti ritornano a un certo punto ma accumulate di altre carte che magari ti interessano o magari voglio passare qualcosa solo per levarmi una carta che mi sta dando un sacco di punti negativi in quel momento insomma molto semplice ma sembra molto carino le illustrazioni sono sono molto simpatiche figo lo voglio sto gioco bene sono contento Alex di avertelo di avertelo fatto di avertelo fatto scoprire 2023 MS lo porterà in italiano quindi quindi basta solo avere un pochino di pazienza però da oggi in poi come dice Raffaella nessuno lo chiamerà mai più Cubosaurus tutto per colpa di Michele sempre MS annunciato anche come già avevamo visto l'uscita l'avevamo parlato dell'uscita inglese ma arriva anche localizzato in italiano la terza scatola di Micro Macro Crime City i soliti sospetti nuova mega mappa sulla quale andare a risolvere i nostri 16 casi un po' in questo modo alla dove vuoli avremo anche la lentina di ingrandimento all'interno della scatola per andare appunto a cercare di capire chi è dove noi prenderemo un caso il caso ci dirà è morto Pippo Pappo il falegname e allora andremo a cercare sulla mappa e abbiamo il disegnino di come è fatto Pippo Pappo e dovremo andare a cercare sulla mappa dov'è Pippo Pappo e una volta che abbiamo trovato o da soli se vogliamo proprio giocarlo da pro cerchiamo di ricostruire tutto ciò che è successo e che ha portato quell'omicidio oppure giriamo la carta che ci dirà ah adesso è stato vista una persona andare via e aveva un grosso cappello e allora dovrai seguire quella scena e troverai quella persona col grosso cappello che se ne è andata via il fatto è che come dice Raffaella lo scorrere del tempo sulla mappa è geniale questo perché noi avremo la possibilità proprio di seguire andando a ricostruire a ritroso la storia che è avvenuta perché gli stessi personaggi ci sono più volte sulla mappa si muovono magari prendono la metro escono da un'altra parte salgono su un taxi si spostano parlano con una persona questa persona poi se ne va a mangiare un gelato poi questo gelato lo trovi schiacciato per terra insomma veramente molto figo e il mistero del fagianni anche questo sarà poi la quarta perché non è l'ultima quindi è già stato annunciato che ce ne sarà poi ancora una quarta e che una volta uscita la quarta le quattro mappe messe vicine creeranno un'unica grande mappa di due metri per tre probabilmente sulla quale ci saranno dei casi da risolvere sulle mappe intere di tutto quanto l'universo di micro macro roba che devi camminarci sopra praticamente però veramente geniale però veramente geniale come dice mister exiani sono assolutamente d'accordo con te nuova carta da parati esatto servirà un monolocale sì più che altro sgordo me per tutti quelli che oh mio dio adesso lo rovino lo sporco come faccio che imbustano le carte anche di micro macro e devi farti fare una lancia di plexiglass enorme da mettere sopra così da poterli camminare a mo' di a mo' di di pavimento esatto ci faranno una mic box può essere non lo so per adesso non non lo so vendiamo i mobili per giocarci anche anche sì perché un tavolo ovviamente non non basta o si gioca all'aperto il pavimento pavimento 2.0 con le mappe di micro macro poi sempre da ms hanno anche annunciato alcuni fumetti gioco con cui usciranno perché dopo aver presentato a lucca avventura nello spazio profondo di bigio e del nostro cristian realizzazione visiva post partita non inclusa no assolutamente appena richiesto cranio gabustina 1.5 per 2022 potrebbero pensarci potrebbero pensarci dicevo continuano anche con ms con i fumetti gioco dopo per l'appunto un giorno da cana e avventura nello spazio profondo che è stato presentato proprio al look comics arriva questa volta scritto da Dario Massa e illustrato da Daisy in grosso questo Detective Claw quindi un investigativo come sempre pucciosino pucciosetto dove il nostro investigatore sarà questo gatto che andrà ad investigare su dei misteriosi misteri e cercare di portarli a termine ambientazione un po' cupa un po' noir sin dalla sin dall'ambientazione quindi rimanda proprio un po' quel mondo di quei detective alcolizzati con il trench e questi cappelli flosce in testa che vanno in giro in queste città dove perennemente piove notte ed è sempre tutto quanto in bianco e nero però resa molto più leggerina dal fatto che il detective sia per l'appunto un nostro un gattino con come assistente penso quel topolino o che comunque sarà uno degli altri protagonisti della della nostra avventura a fumetti in cui avremo bivi avremo enigmi misteri da risolvere per arrivare ai possibili finali della della nostra avventura quindi molto molto curioso di vederlo scusami Alberto è rigiocabile mi parli di detective claw o di micro macro raffaella in entrambi i casi micro macro risolti i casi no ma sono in questa nuova che esce 16 non mi ricordo in quelle vecchie che ho già giocato da un po' però mi sembra che siano anche lì circa 16 ma no una volta che hai risolto il caso si magari passato un po' di tempo lo puoi rigiocare perché non ti ricordi magari più perfettamente dove avevi trovato quel tal particolare però quello che ti chiederà di fare è sempre uguale detective claw in quanto ok detective claw in quanto libro game fumetto gioco si lo rigiochi per vedere tutti i finali per cercare magari tutti gli easter egg come in un giorno da cana come anche in in avventura nello spazio profondo ora di questo nello specifico non so come sarà strutturato perché per ora hanno soltanto annunciato il titolo però idealmente si essendo un libro come sono rigiocabili tutti i libro gioco e i fumetti gioco che ci sono in commercio quindi non farai una singola run ma ne farai anche di più perché morirai ti ritroverai bloccato ti capiteranno robe che non volevi che ti succedessero e quindi prenderai decisioni diverse per provare a vedere anche magari più più finali poi chiaro che una volta li hai visti tutti magari lo scopo cessa un po' ma già gli hai dedicato un sacco di tempo poi questa cosa della rigiocabilità non frenatevi troppo su anche se non è rigiocabile anche se è un legacy anche se dovete strappare le carte anche se fate un'unica partita e poi gli dovete dare fuoco perché se no il gioco non è finito giocateli giocateli lo stesso perché l'esperienza che magari vi dà quel tipo l'aver dovuto bruciare un componente di un gioco è una roba che vi porterete appresso per sempre ed è quel tipo di emozionalità che il gioco può dare e che voi dovete accettarlo fidatevi di me fidatevi strappate le carte dei giochi legacy battetele la ciolla di mettere tutto nelle bustine viveteli sti giochi per favore ok andiamo avanti perché sempre MS ho fatto un sacco di annunci MS come avete intuito annunciato anche The Binding of Isaac 4 Souls videogioco famosissimo adoratissimo da tutti quanti che io ovviamente non conosco ma sapevo dell'esistenza di questo videogame perché avevo letto già il gioco di Binding of Isaac che è già di un po' di anni fa è già di un po' di anni fa e arriva finalmente in italiano perché è un gioco molto dipendente dalla lingua e quindi io già anni fa mi ricordo che è uscito il gioco di Binding of Isaac che sfidate io ah e che cos'è Binding of Isaac non lo so le basi non lo so per me le basi ancora Monkey Island e Commandos e Bubble Bubble signore signore cioè lì io sono rimasto lì si è uscito quattro anni fa si è del 2018 il Binding of Isaac finalmente comunque lo si può avere in italiano lo stesso per me Ed Electric Pandemic Legacy Season 1 non credo verrà mai scalzato dal mio primo posto emozionale penso anch'io Fabio sì penso King's Dilemma ci è andato vicinissimo però King's Dilemma è stato eccezionale anche proprio come esperienza e come viaggio questa è una nuova versione rispetto a quella del 2018 ci dice l'Enders io quello che ho trovato sono immagini chiaramente della vecchia edizione in quanto è un gioco molto semplice in realtà di carte nel quale noi dobbiamo armarci prendere tesori parte di bottino per andare a combattere i mostri il primo giocatore che riuscirà ad avere quattro anime ovvero aver sconfitto quattro mostri che come ricompensa diano un'anima oppure averle trovate in parti di bottino in determinate circostanze vince la partita molto semplice molto molto semplice però sembra super divertente molto cacciarone anche mi ha ricordato un po' anche per alcuni effetti di alcune carte e anche un po' proprio lo stile delle illustrazioni come come vedete anche un po' per alcuni effetti quasi un manchkin se vogliamo visto che si parla di videogame ma nessuno mai localizzerà il gioco di Stardew Valley non penso Mr. Exiani non credo un po' di tempo fa c'era comunque disponibile su Dungeon Dice nella sua versione inglese My Two Cent non è questo granché di gioco e io Stardew Valley l'ho giocato Stardew Valley l'ho giocato lo conosco come gioco da tavolo sì carino ma carino come tanti altri molto anonimo secondo me comunque al di là dei miei pareri che valgono fino a dove valgono su Stardew Valley parlando invece di questo gioco che non ho giocato come dicevo gli effetti sono tutti anche un po' casinari mentre un altro giocatore fa il suo turno io gli posso giocare le carte contro e andargli quindi a rompere le scatole insomma molto anche casinaro quando combatterò contro i mostri avrò la possibilità anche di venire ferito in quel caso comunque se finiscono le mie vite non sono morto semplicemente perdo roba e ricomincio a giocare quindi insomma diciamo diventa un po' più difficile che io vinca ma comunque si può andare avanti e ogni giocatore si può giocare fino a 4 giocatori ogni giocatore prende uno di questi che penso siano i protagonisti del gioco Caino, Esacco Giuda e Megli e con appunto come vedete i vari oggetti che ci potremmo equipaggiare il dado da 6 per rirollare i dadi che sarà quello con cui combattiamo lo slight of end quindi tipo il gioco di prestigio l'abilità di mano sarebbe possiamo andare a sbirciare carte dal mazzo appunto penso che sia per chi conosce il videogioco ritroverà sicuramente molti elementi del videogioco perché ho letto che è così e quindi è molto ricalca molto quello che è il feeling del videogioco trasponendolo in un gioco da tavolo sicuramente divertente mi dà anche l'idea di essere un po' cacciarone e comunque diciamo molto semplice da giocare si sa quando aprirà la preordine di Isaac su Dungeon Dice no purtroppo non te lo so dire ancora è prevista l'uscita nel 2023 ma può voler dire Natale 2023 ragazzi quindi magari stiamo parlando di un gioco che uscirà tra 13 mesi e grazie a Newcam85 benvenuto benvenuta su Dungeon Dice TV grazie mille per essere qui grazie mille davvero di cuore tutti i giorni alle 13 ci trovi live a parlare di qualcosa di bello legato al mondo dei giochi da tavolo ma non solo in più generale della cultura pop a 360 gradi quindi andiamo avanti perché gli annunci non sono ancora finiti perché arriva il seguito di una notte da cana dopo un giorno da cana una notte da cana la nostra Lucy arriverà di nuovo a te a fare avventure a risolvere enigmi e cercare cose perché il mistero qual è? il mistero è che il cane dei vicini il cagnone si è perso è sparito e noi lo andiamo a cercare aiutati dal nostro amico Volpino Ramon che ci si vuole fare e noi andremo a cercare il nostro amico cagnone che non si trova più particolarità e come vedete solo più di Stefano Tartarotti non c'è più anche la firma di Cristian ad accompagnarlo Stefano quindi qua cura non solo i disegni ma anche proprio la storia e l'avventura e i mini giochi che ci saranno all'interno e che si potranno che si potranno affrontare nel prossimo anno anche con il seguito di una notte da cana sì io anche ho avuto la stessa reazione delle dungeon store di Savona quando ho visto questa news così come anche sono stato molto contento del fatto che arriverà anche nel 2003 nuove avventure per la nostra Claire Harper la nostra investigatrice di In Giallo che mi piace un sacco già dalla cover è invecchiata ha qualche anno in più è passato qualche anno rispetto alle avventure narrate nella prima scatola di In Giallo nei primi tre casi di In Giallo ma tre nuove avventure e mi piace tantissimo il fatto che il tempo è passato realmente e per carità per adesso lo si vede solo da sta cover con lei leggermente più vecchia però mi piace tantissimo come idea mi piace tantissimo come idea si riesce a portare una narrazione tra le varie scatole veramente molto molto figa e vedremo come sarà probabilmente saranno di nuovo tre avventure a noi sono piaciuto un sacco le prime tre ed è stato un gioco che c'ha l'abbiamo detto vabbè dai proviamo dai iniziamolo e in sera e pranzo del giorno dopo abbiamo giocato tutto quello che c'era da giocare perché c'è proprio piaciuto un sacco quindi felicissimi felicissimi di questa annunciazione così come anche arriva questo The Book of Rituals che io l'ho visto e ho detto ma cos'è una roba per un gioco di ruolo una roba per lanciare gli incantesimi tremendi e così poi lo apri dentro ci sono alfabeti alchemici ci sono robe così spaventose se vi cercate qualche immagine online ci sono delle immagini che fanno paurissima ci sono robe spaventosissime e cos'è? praticamente fa parte della serie dell'Escape Tales di MS però questa non si chiama Escape Tales qualcosa si chiama semplicemente proprio The Book of Rituals ed è un libro ad enigmi sono paginate di enigmi da dover risolvere da come ho capito non ho capito se collegati da una storia quindi a modi di libro game diciamo ma con enigmi per poter andare avanti che ti dice qual è la prossima pagina che potrai andare a risolvere oppure se voda li fai così a random avanti e indietro ma sembra figo se vi piace il genere enigmi sicuramente qua ci sarà un sacco di pane per i vostri denti e sempre in MS uno degli ultimi annunci che arriverà anche nell'espansione di fort cani e gatti in cui ci sono questi due moduli uno con i cani uno con i gatti da poter aggiungere separatamente oppure unitamente entrambi che aggiungono queste carte cane e queste carte gatto che cambieranno di padrone diciamo nel corso della partita da un lato i cani quando li prendi rimarranno sempre tuoi perché loro sono fedeli staranno sicuramente nella tua cuccia ma se tu non riesci a dargli ciò che loro vogliono a livello di risorse a livello di simboli non attiveranno il loro non attiveranno il loro potere e grazie mille a Newcam85 che è appena arrivato ho subito abbonato con Prime ricordo anche a te quindi che volendo potrai riscattare un mese di abbonamento VIP in regalo su DungeonDice.it per avere tutte quante le appunto i vantaggi che essere VIP comporta oltre a parti del catalogo di DungeonDice.it scontate avere uno sconto fisso su tutti quanti i vostri ordini soglie di spedizione abbassate e anche in questo momento in questo periodo 5 euro gratis da con una spesa minima di non mi ricordo più quanto comunque da poter da poter aggiungere utilizzando il codice VIP5 mi pare comunque sono bravi grazie mille per il vostro supporto ma andiamo avanti perché diciamo appunto i cani che quindi restano con te i gatti invece che sono fetenti per natura possono anche cambiare di padrone nel corso della partita e ognuno ti darà delle abilità permanenti immediate da utilizzare nel corso della partita molto semplice come espansione fa quello che un'espansione deve fare secondo me andare ad aggiungere qualcosina senza stravolgere il gioco base e così ritornando con il musino della nostra Foxy che ci viene a guardare che vi ricordo sarà disponibile dal 21 facciamo un salto allora a vedere quali annunci sono arrivati d'oltre oceano perché ce ne sono un paio di veramente carini e uno che voglio vedere se anche voi sapete chi è quella persona che quando ho visto il suo nome sulla scatola di un gioco da tavolo ho detto oh mio dio ma io lo devo avere però magari lo conosco solo io chi lo sa chi lo sa partiamo perché partiamo con The Last of Us Escape the Dark titolo che domani andrà su Kickstarter ed è della stessa casa editrice dei vari Escape the Castle Escape the Castle Space Sector quindi con questa tonalità diciamo di gioco tutto quanto è bianco e nero ma questa volta è ambientata nell'universo videoludico di The Last of Us che è nominato un po' ma mica l'ho mai giocato ma so vagamente di cosa parla so che c'è uno dei due personaggi che dovrebbe essere la ragazza di cui adesso non mi ricordo il nome che è Elliot Page che le ha dato i lineamenti perché è stato fatto in quella roba lì con i pallini sulla faccia dovrebbe essere e l'altro e c'era The Last of Us e Willem Dafoe forse anche non lo so gli uomini fungo mi dice Alex che sono quelli sulla copertina se comunque questo universo post apocalittico dove c'è questa invasione zombie dove poi non sono zombie sono mostri ma un po' Silent Hill un po' gli zombie di Romero insomma non si sa ancora praticamente niente di questo gioco se non che ci saranno dei dadi da lanciare se non che ci sarà in alto alcune carte bella botta di colori e questa è la particolarità secondo me più grande perché scusatemi c'era qualcuno che mi telefonava non capivo che mai dicevo la particolarità so come il gioco atteso intendessi Fancy Feathers no? quello io anche mi auguro una localizzazione di Fancy Feathers no no è un altro è un altro non è ancora questo qua di The Last of Us dicevo che la particolarità di essere tutto in bianco e nero è perché proprio come mi è caduto il telefono a forza di vibrare scusate non devo raccogliere ma mamma mia allora dicevamo ok eccomi no è che ce l'avevo in carica e vibrando è caduto e si è staccato dalla carica la perché in bianco e nero perché come anche in Escape the Dark Castle è tutto quanto in bianco e nero e mi piace comunque questa scelta cromatica molto molto particolare sicuramente però potrebbe potrebbe premiare e dicevo quello che si vede che si capisce da questa mappa è che ci si muoverà tra varie location tra varie zone di questo appunto universo comunque urbano perché ci saranno i soborghi ci sarà il centro città insomma ci muoveremo in varie zone potremo fare delle ricerche perché ci sono delle carte ricerca in alto così come c'è anche la possibilità di andarci a costruire i nostri oggetti e le nostre armi che è anche una proprio delle cose che si possono fare nel video game c'è anche questa possibilità data dal gioco perché appunto gli altri mazzetti di carte riguardano proprio questo le armi e gli oggetti costruiti costruiti da noi dovremo andare in giro dovremo sopravvivere ci saranno delle missioni solitamente in Skid Dark Castle vado avanti e combatto mostri fino ad arrivare al boss finale credo che qua potrà essere qualcosa di affide al a quello ciao Antoine ciao ben ben arrivato però per adesso come vi dicevo non se ne sa ancora niente se ne saprò di più magari approfondiremo in uno dei prossimi next e questo è il titolo di cui vi parlavo prima perché autore di questo gioco sviluppato e pubblicato dalla casa editrice di Exploding Kittens ma il protagonista cioè l'autore di questo gioco è Penn Gillette e magari a voi non dice assolutamente nulla e state pensando Gillette il meglio di un uomo quelli che si fanno la barba ma Penn Gillette assieme al suo socio Teller sono i due più grandi prestigiatori viventi che abbiamo sulla faccia della terra assieme a David Copperfield e penso nessun altro praticamente sono due personalità ormai hanno una loro certa età ma continuano a rimanere incredibilmente bravi in quello che fanno e sono stati i primi prima ancora di David Copperfield a portare molto meglio anche nel Mago Telma a portare il mondo della magia della prestigitazione sul grande schermo loro negli anni 80 hanno iniziato a fare le loro prime le loro prime apparizioni televisive e i loro primi show in televisione Silvano il Mago di Milano e Sim Salamin ci mancherebbe ci mancherebbe altro e battutona tra titolo e illustrazione di livello esatto battutona allora quello è ora state nominando tutta gente inutile nel mondo della magia mentre io sono molto serio ma al di là di ciò no Mago Forest bravissimo simpaticissimo ci mancherebbe diciamo il gioco è super semplice è un gioco di bluff puro esclusivo gioco di bluff in cui al nostro turno noi metteremo una mano in questo sacchettino in questo sacchettino all'interno ci saranno tantissimi triangolini di spugna morbidi e un unico rettangolino di plastica dura ok io mettendo la mano dentro quindi riconoscerò facilmente dov'è questo pezzettino blu rigido rispetto ai rispetto ai triangolini di spugna prenderò però o tre triangolini di spugna o l'unico pezzo di plastica blu rigido e li chiuderò nella mia mano non si potranno imbustare i triangolini ma tra l'altro fatto che siano di spugna perché una delle magie diciamo degli attrezzi magici di base sono proprio le palline di spugna che si usano per fare un miliardo di trick diversi di routine diverse con bussolotti e quant'altro ed è proprio il tipo di oggetto che quando impari a fare magia soprattutto da bambino è la prima cosa che ti viene messa in mano e mi piace tantissimo che ci sia questa cosa qua sotto forma di triangolini non di palline ma meglio per riconoscerli al tatto ok diciamo ne prendo tre e me ne chiudo in mano oppure prendo l'unico coso rosso e me lo metto in mano dopodiché chiederò agli altri vuoi quello che c'ho in mano vuoi quello che c'ho in mano vuoi quello che c'ho in mano se qualcuno accetta se lo deve prendere se prende però robe rosse sono punti negativi che ottiene ma se nessuno accetta ciò che io sto dando me lo dovrò prendere io e mi prenderò io quei punti negativi se invece avrò preso sia perché mi è ritornato perché gli altri non l'hanno voluto sia perché qualcuno ha accettato il momento in cui io in mano avevo il blocchettino blu allora andranno a rimuovere da quelli che hanno già davanti a loro triangolini rossi pare il valore del lancio di un dado molto easy questa cosa perché appena io c'ho dieci triangolini rossi sono fuori quindi a una certa io sono obbligato ad aver preso in mano il blu e gli altri però dovranno capire quando lo prenderanno mi piace un sacco il belto prestigi di attore ho fatto anche quello in passato sì ho fatto anche quello in realtà se comunque non conoscete Penn e Teller trovate mi sembra anche su Netflix ci sono le prime stagioni se no su YouTube trovate vari estratti guardatevi la loro trasmissione che fanno a Las Vegas che è Full Az ovvero un talent relativamente solo ed esclusivamente ai maghi e agli illusionisti meraviglioso dove vedi veramente gente bravissima dove poi magari loro non non riescono a sempre a capire come sono riusciti a farlo e in quel caso vincono il premio il trofeo più delle volte loro hanno capito perfettamente cosa hanno fatto quando tu sei sbaccalito e a bocca aperta perché non capisci minimamente cosa è successo quindi nel caso andatevelo a cercare io solo perché c'è il nome di Penn Gillette sopra già lo vorrei gioco iper mega semplice ma secondo me funziona da dio arriverà in Italia e della stessa cadetrice di Exploding Kitten lo farà la Smodè me lo auguro perché io lo voglio e The Isle of Cat ve l'ho messo qua non peraltro perché sapete ne avevamo già parlato è stata comunque annunciata la localizzazione italiana da parte della Lucky Duck Game Italia si ho conquistato Vare con la magia si Marco bravo che te lo ricordi ne avevamo parlato in una delle primissime live serali con giochi a giullari dicevo The Isle of Cats che arriverà teoricamente entro fine anno con la Lucky Duck Game Italia quindi arriverà l'edizione totalmente in italiano comprensiva anche delle espansioni che non usciranno subito usciranno più avanti ma dovrebbero anche arrivare sempre con loro ma c'è stato io non lo sapevo Team Dog ma questo può entrare in armadio uguale egno la Lucky Duck Game ultimamente sta spingendo forte si sono sono arrivati e e hanno grazie Newcam per aver riscattato il mese di VIP ti arriverà poi una mail nei prossimi giorni con il codice da inserire dicevo si sono arrivati con Flankcraft adesso con questo animali in guerra anche Irland and Sea molto carino che abbiamo giocato a che abbiamo giocato a Lucca stanno comunque sono arrivati stanno facendo delle belle proposte ma al di là di The Isle of Cats io non lo sapevo mi è uscito in realtà già da qualche settimana già un po' di settimane fa era questa notizia che ho trovato ma vi ho recuperato e vi ho messo qua è uscito questo Rise to the Raft che è praticamente uno spin off diciamo di The Isle of Cats ambientato nello stesso universo concetti simili ma diversi perché questo qua è un collaborativo che si può giocare anche in solitario ed è più un sì è passato su Kickstarter Alex è più un puzzle da dover risolvere ci sono vari livelli di difficoltà 85 tipo una cosa del genere che andranno risolti sempre con questa ambientazione di questi gatti in cui noi dovremo andare a posizionare le tessere per crearci un percorso che ci permetta di raggiungere poi il fiume dove poter quindi essere salvi mentre attorno a noi impazza il fuoco che dovremo andare a piattere giù alla fine di ogni di ogni nostro movimento praticamente quindi ci saranno vari schemi che non ho ben capito quale sia poi la diversità probabilmente la tipologia e quantità di tessere che potrai andare a posizionare oppure no per cercare di risolvere quindi questi questi appunto questi vari questi vari livelli questi vari schemi non ha più niente a che fare con The Isle of Cats se non a livello di ambientazione appunto di essere ambientati all'interno dello stesso universo però però non me l'ero totalmente perso quindi ve l'ho voluto ve l'ho voluto portare anche oggi così come è stato annunciato che uscirà in concomitanza con il ventennale dell'uscita di Alhambra uscirà sempre a firma di Dirk Henn autore già di Alhambra sempre con la Queen Games casa editrice che pubblicò Alhambra 20 anni fa uscirà The Red Palace che è un remake diciamo così di Alhambra ci sarà sempre il draft chiamiamolo così dei soldi quindi questa modalità di ogni round verranno rivelate nuove carte danè che noi potremmo ottenere prendendole tutte dello stesso coloro oppure di colori diversi solo se ne prendiamo inferiori a 5 e con queste 4 tipi di valute in 4 colori potremmo andare ad acquistare le tessere che andranno a comporre per l'appunto il nostro Alhambra sia stand alone Mr. Exiani non è un'espansione proprio un brand new game è una sorta di remake di Alhambra un pochino più modernizzato quindi la base sono le stesse regole di Alhambra ovvero prenderemo queste monete in 4 colori che sono 4 valute questi 4 valute ci serviranno per acquistare i pezzi del del palazzo che andranno i vari palazzi in vari colori che andranno a comporre la nostra Alhambra e faremo punti sia per la maggioranza di tessere dei vari colori che per le mura che andranno a cingere quindi il nostro il nostro Alhambra il nostro giardino perché ci saranno delle tessere per l'appunto con questi muri sopra che noi dovremo andare a posizionare in modo contiguo di modo da fare quanti più punti possibili andando a piazzare quante più di questi muri possibili ma vanno anche ad aggiungere alcune nuove piccole meccaniche che non stravolgono il gioco lo lasciano sempre simile però vanno ad introdurre ad esempio le guardie alcune tessere forniranno le guardie che possiamo tenerci lì per fare punti a fine partita oppure le possiamo spendere nel corso della partita per fare delle azioni in più al nostro turno così come anche c'è una nuova particolarità sul modo in cui si possono acquistare si possono acquistare le tessere per adesso non hanno ancora detto granché anche la cover è ancora soltanto un work in progress e tutto molto work in progress uscirà il prossimo anno probabilmente ne faranno un kickstarter come la queen game sta facendo ultimamente e ultimamente da sei anni tipo quindi già da un bel po' però come diceva anche Mr. Rexiani un'ottima occasione magari per riscoprire un tindolo vecchio che comunque è molto piacevole e molto carino e le guardie sono anche sulla cover come notate lì negli angolini e mi devo di nuovo soffiare il naso porca miseria perché mi dà fastidio che mi sento parlare nel naso e mi dà fastidio sta cosa ciao ciao Remo sì Alambra funziona bene in 3 4 in 2 meno sì assolutamente sì sono d'accordo io ce l'ho Alambra ho anche 4 espansioni di Alambra perché comunque è un gioco che mi piace sì sì assolutamente no essendo un gioco di maggioranze in 2 c'è una modalità per essere giocato ma non è fantastica e nonostante io abbia un sacco di espansioni lo apprezzo comunque molto di più liscio nella sua nella sua modalità base quindi senza troppe aggiunte senza troppe cosine che avevano messo poi nel tempo per dare variabilità dare aumentare un pochino la profondità però però sì hai fatto hai fatto bene a sottolinearlo Remo non ho pensato di dirlo ma anche perché comunque questo è un annuncio di una roba che tra un anno forse andrà su Kickstarter quindi magari tra 3 o 4 anni arriverà parlare della scalabilità mi sembrava un pochino troppo via insomma però grazie mille per avercelo sottolineato grazie davvero e poi cos'è sta roba cos'è sta roba signore e signori ve l'ho tenuto nascosto ve l'ho tenuto nascosto non ho detto che ne avremmo parlato ma uscirà anche qua anno 21 ma infatti Ennio però ormai lo so però se per il ventennale devo uscire nel 2023 Takenokoror non è Takenokoror inwright in realtà Alex o meglio Zni si chiamerà Takenokolor si chiamerà Takenokolor ed è geniale come nome color scritto con la k è tutto attaccato un'unica parola comunque Ennio dicevo si è per il ventennale quindi dovrebbe uscire il prossimo anno assolutamente ma tutti i kickstarter ormai era qui in game quindi mi fa strano che non facciano un kickstarter anche di questo comunque chi lo sa ciao Melx ciao grazie tanto abbiamo quasi terminato Lenders che questo lo vuole grazie a Lenders perché mi ha taggato su facebook in un post in cui c'era quest'immagine e come funziona questo Takenokolor è un roll and write si perché si però che cosa rolliamo secondo voi rolliamo dei dadi oh no 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 rolliamo dei pezzi di bambù tra l'altro quei pezzi di bambù sono palesemente stati presi da Takenoko e messi lì e non c'entrano una fava con il gioco senza tessere esagonali esatto per amore di Raffaella rolliamo Brava Electric rolliamo le penne lanciamo un giocatore prende le quattro penne le lancia sul tavolo e a seconda dopodiché a giro io prenderò io prenderò rolliamo il panna in scala 1 a 1 bravo Dungeon Store io poi primo giocatore scelgo quale colore prendere lo prendo e posso colorare con quel colore un pezzo di bambù che abbia lo stesso simbolo che in quel momento vediamo sopra la penna e a giro tutti gli altri giocatori scelgono un colore e vanno a colorare super easy si faranno punti per aver colorato tutto i pezzi di bambù credo non lo so boh e più sono alti più punti non lo so anche perché sembrano tutti da tre visto così c'è solo ed esclusivamente questo ci sono quelle goccioline in alto perché comunque i tipi di bambù qua come vedete sono quattro perché c'è anche il bambù azzurro già sotto e non è un no no scusate l'azzurro ci va a colorare solo le goccine sopra dell'irrigazione sotto anche se i colori sono sballati c'è verde giallo rosa che sono i bambù del già del gioco base però poi ci sono simbolettini lì in basso non capisco se il gioco è tutto qua è tanto easy tanto easy però il tiro dei pennarelli è molto simpatico per me tacche no basta molto carina molto carina come battuta Enio ti meriti ti meriti guarda ti meriti i fagianni che venga che compaia e anche fagianni ti guarda e dice simpatica dai e se ne va e se ne va per un attimo stava per rimanere allibito da questa battuta Enio però poi diciamo che l'ha accettata e l'ha apprezzata per adesso se vi sta solo sti immagini di questo tacche no color titolo eccezionale bisogna vedere se ci sarà poi qualcos'altro oppure se banalmente il primo che colora tot cose non lo so se prima devo andare a irrigare prima di poter far crescere quelli con i triangoli non lo so però vorrebbe anche dire che di apertura il primo prende il blu e gli altri si attaccano allo sgnaus se non possono far crescere niente non lo so non lo so perché guardando solo da una foto boh e poi signore e signori ultimo titolo di questa carrellata è stata anche annunciata l'espansione di paper dungeons side quest nuova espansione che andrà ad introdurre nuovi dungeon quindi proprio nuovi fogli sui quali giocare così come anche nuovi mostri questo simpaticissimo guardatelo come simpatico questo signore quanto quanta simpatia crea questo signore attorno al tavolo sarà uno probabilmente dei cattivoni da dover andare a sconfiggere ma andranno anche ad introdurre oltre a nuovi cattivi nuove tipologie di elementi da andare a disegnare sulle da andare a disegnare sulle nostre sulle nostre mappe e per poter stare per infatti sta simpatico ha una faccia super allegra guarda è lì che ride è tutto carino no no infatti ci sta Alex appunto nuovi elementi da andare a disegnare sulle nostre sulle nostre sulle nostre mappe quindi dare maggiore variabilità per adesso appunto è stata annunciata l'espansione in inglese non so se verrà localizzata anche questa come già il gioco base ma grazie sempre a Lenders che anche mi ha segnalato questa qua quindi prima o poi magari se ne sentirà ancora parlare sta cucinando i panda di prima potrebbe anche essere potrebbe anche essere ma diciamo che immaginano come fosse il corriere che ti consegna il pacco anche e comunque con questo concludiamo la nostra carrellata di news ma aspettatemi perché non finisce qui signore e signori ce l'abbiamo fatta non è più andata come la live del lunedì prelucca dove alle 3 un quarto ero qua che correvo che dovevo andare portare i bambini dal pediatra ed ero terribilmente in ritardo ma come sempre grazie mille a tutti quanti per essere stati qui grazie mille a tutti i nuovi follower grazie mille a tutti gli abbonati i lanci di beat avete fatto un sacco di tifo quest'oggi e grazie davvero perché è stata una splendida ripartenza di di settimana esatto dai dai siamo siamo puntuali quindi siamo in tempissimo anche per fare un ride a qualcuno vediamo chi c'è live tra i nostri tra i nostri seguiti così andiamo a cercare qualcuno a cui poter fare eccolo qua eccolo qua eccolo qua abbiamo trovato film show live che andiamo a salutare tra un istante ma non prima di ricordarvi tutti quanti gli altri appuntamenti della settimana perché domani ci sarà vale con board and art come sempre per portarvi nel mondo delle illustrazioni dei giochi analizzarle intanto chiacchierare assieme e creare sempre qualcosa di creativo insieme a lei per poi mercoledì ritrovare anche silvia che non abbiamo visto l'altra settimana anche lei ancora in pausa post lucca con le nostre classifiche per poi anche giulia con il lo sapevi che è questo giovedì quindi partiamo per un ride restate qui non scappate io vi ricordo di continuare a seguirci se non l'avete fatto lasciate un follow vi ricordo che anche qua su dungeon dice tv si gioca per giocare quando arriveremo da fil facciamogli un salutone a nome di tutta quanta dungeon dice tv siamo pronti possiamo eseguire il ride io vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento domani alle 13 e con me si ci rivediamo il prossimo lunedì ciao 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 ciao